Sabato 11 giugno 2022 in Slanda c'è un atlantico vicino alla città di Vik una scogliera dove solitamente nidificano le pulcinelle qui che per ora non ci sono l'oceano atlantico sono visibili in realtà i buchi nei quali fanno i nidi ma queste si sono date sono paccato ora io spero di poterle rivedere giù agli altri colonnati patatici in compenso ci sono diverse coppie di pulmari che si stanno corteggiando con dei balletti di collo e di becco ogni coppia nel proprio nido anche qua vicino c'è un sorteggiamento questi sono proprio la cena fuori il lume di candela cosa c'è un sotteggiamento c'è un sotteggiamento